Il CNS ha avviato una serie di cambiamenti dal punto di vista della governance, dal punto di vista dell'organizzazione e anche dal punto di vista della gestione finanziaria, cercando di sviluppare in senso manageriale l'attuale modello di funzionamento con lo scopo certamente di dare più strutturazione alle attività operative, maggiori procedure, maggiori regole, ma chiaramente con l'intendimento di guadagnare nel corso del tempo il ruolo delle persone nelle procedure e quindi di cercare di coinvolgere maggiormente le persone che operativamente fanno questo lavoro tutti i giorni per portare a sistema la loro conoscenza e rendere le procedure più vicine ai problemi, di quanto chiaramente non possa avvenire con la gestione centralizzata. Il Consorzio ha un posizionamento che chiaramente deriva da un'evoluzione storica, come tutte le evoluzioni sono lente e i cambiamenti sono un po' come dei siti archeologici, dove ci sono dei vari strati dove si possono vedere le diverse epoche. L'attuale portafoglio di business del Consorzio è in questo senso un sito archeologico, dove però si notano già degli strati che piano piano si assottigliano e altri prendono corpo. Indubbiamente i nuovi ambiti come la logistica, come i servizi alla persona possono essere delle prospettive di sviluppo che hanno il ruolo di diversificare le attività non solo in contesto pubblico ma anche nell'ambito privato. Questo insieme alla internazionalizzazione del business rappresenta le grandi sfide del futuro.